Il Mattarellum era un sistema che funzionava e noi abbiamo vinto nel 201 con il Mattarellum in un'Italia bipolare. Oggi il paese è diventato almeno tripolare, poi esistono altri partiti che non fanno parte di nessun polo, con il sistema tripolare non è pensabile un premio di maggioranza. Porterebbe un'esigua minoranza del 30%, ma è il 30% dei votanti, con metà degli aventi diritto al voto che votano soltanto, sarebbe il 15% di tutto l'universo degli elettori e col 15% si arriverebbe a avere, ripeto, un'esigua minoranza che governerebbe contro l'85% degli altri italiani. Quindi è necessario arrivare a un proporzionale, ho sentito che qualcuno ha anche fatto l'ipotesi di un'assemblea costituente, io sono favorevole a questa possibilità, ma soprattutto è importante che le forze politiche diano luogo a una serie di incontri in Parlamento, a lato del Parlamento per arrivare a una soluzione condivisa. Sul Mattarellum però siete rimasti di fatto lui unici a dare un sostegno possibile a Renzi, Berlusconi sono in un'altra parte. Siamo coerenti, abbiamo detto al voto il primo possibile con qualunque legge elettorale, Renzi e il PD hanno la maggioranza, hanno detto il Mattarellum, allora di conseguenza io dico bene il Mattarellum, mi aspetterei altrettanta conseguenza e coerenza da parte dei 5 Stelle di Forza Italia.